Un 25 aprile che sia di vera liberazione, in questo caso dal Covid. Marino dell'Acqua ha tolto la cravatta di direttore socio-sanitario di SST, indossato guanti e camici e contribuito alle vaccinazioni in corso al Malpensa Fieri. L'obiettivo è di portare a pieno regime le 30 linee di bustressizio, alzando a quota 6.000 le inoculazioni giornaliere e a 100.000 quelle lombarde. Vale a dire un quinto delle ambizioni nazionali targate Draghi Figliuolo. Servono le dosi, certo, ma sul punto dell'acqua è ottimista, così come sul valore delle sinergie che si sono venute a creare. Non ultimo, il prezioso contributo di un RSA come la Providenza, che ha mobilitato il proprio personale per vaccinare in esterna. La nostra idea è che avremo delle linee dedicate alla vaccinazione con personale dell'RSA di questo territorio, proprio per far vedere alle persone che tutti si stanno muovendo su questo fronte. avremo probabilmente del privato convenzionato che darà delle linee vaccinali. Vedremo se riusciamo a stimolare altri soggetti che in qualche modo possono partecipare. Per esempio gli odontoiatri hanno incominciato a dare un loro segnale, abbiamo i medici in pensione che stanno venendo, abbiamo l'ordine dei medici che ci ha dato molti nominativi di volontari che possono venire a Malpensa. Quindi stiamo mettendo insieme tutte le risorse. L'obiettivo è arrivare prima dell'estate, ad avere una quantità di vaccinati tale da poter pensare in modo sereno all'inizio del dopo estate.